Buongiorno ragazzi di Investire in Borsa a Caccia di Dividendi, me l'avete chiesto in tanti e ce l'avevo anche in mente di farlo, però è arrivato finalmente il momento. Il momento di farvi vedere come funziona l'app di Interactive Brokers. Per chi tra l'altro volesse aprirsi un conto Interactive Brokers, mi faccio un po' di pubblicità ogni volta, dai, ogni tanto ci sta. Nella descrizione a ogni video trovate anche un link, un referral link, per poter aprire un conto Interactive Brokers che permetterà di ottenere un piccolo bonus sia a me che a voi in particolare. Se verranno rispettate tutte le regole che attiveranno poi il bonus, riceverete una distribuzione dell'1% di quanto versato in azioni proprio Interactive Brokers. Io stesso ho aperto il conto, tra l'altro con un referral link di un mio amico e devo dire che le azioni stanno arrivando. Però, detto questo, siamo dentro alla demo. Alla demo, infatti, andando nella sezione portafoglio, possiamo vedere come abbia una liquidità elevatissima, addirittura quasi un milione di euro, però magari ce li avessi, eh? Magari. Anzi, un milione di dollari in questo caso nella demo. Allora, vediamo un pochino quindi. Quindi, ho già simulato qualche operazione, in particolare 100 azioni Bayern, 1000 azioni intesa San Paolo, che quindi sono già dentro al mio portafoglio. Cosa è possibile fare? A questo punto, in alto a destra, c'è una lente di ingrandimento. Vediamo se riesco a farvi anche il pennellino. Eccolo qui. Qui avete la lente. Fatto questo, andando a cliccare proprio sulla lente, potete digitare l'azione che preferite. Ad esempio, non so, volete acquistare Terna? Digitiamo Terna. Esce. La seconda voce è quella del mercato italiano. Terna, rete energia elettrica nazionale. Andiamo a cliccare. Si apre l'azione e abbiamo la possibilità, vediamo in basso, acquista o vendita. Noi, ovviamente, non ce l'abbiamo in portafoglio. Possiamo fare acquista. Mettiamo la nostra quantità. Ad esempio, mettiamo 1000 azioni Terna. Possiamo mettere un prezzo limite, ad esempio, di 6,60 euro in questo caso. Siamo sicuri che l'ordine di acquisto passerebbe, altrimenti, schiacciando sul menu a tendina, possiamo mettere anche a mercato e in questo caso abbiamo la certezza di far passare l'ordine. Mettiamolo a mercato, scorri, possiamo far scorrere la barra che vediamo in fondo, vela evidenzio, eccola qui, scorriamo e l'acquisto, diamo la conferma, voi non lo potete sapere ma il cellulare ha vibrato, ordine eseguito, possiamo fare anche visualizza eseguito, che lo vediamo qui, ci clicchiamo sopra e possiamo vedere anche il dettaglio, quindi acquisto di 1000 azioni Terna. Entriamo nel dettaglio, vediamo come sia stato eseguito l'ordine di acquisto a un prezzo di 6,534, la commissione di 3,27 euro, quindi una commissione su un acquisto di 6.000 euro molto contenuta. Ovviamente tendo a sottolineare che stiamo operando in simulato e lo vediamo da qui. Quindi qui vediamo le commissioni, qui il prezzo dell'eseguito e la quantità di 1000 azioni. L'importo netto lo vediamo qua. Allora, tornando indietro, sicuramente chi utilizza Interactive Brokers poi potrebbe operare anche in altri modi. Ovviamente abbiamo acquistato l'azione Terna, possiamo eventualmente anche poi andarla a vendere. Andiamo di nuovo a cliccare semplicemente sul nostro portafoglio e clicchiamo sulla azione Terna. Eccola qui. Andiamo dentro. Ce ne vogliamo disfare? Facciamo vendita. Ovviamente non ha senso fare un'operazione in così brevissimo termine. e vendiamo sempre, magari vendiamo soltanto 500 azioni e le vendiamo sempre a un prezzo di mercato. Allora andiamo qua. Prezzo limite. Mercato. Scorri per la vendita. Ovviamente io vi consiglio sempre di non mettere il prezzo di mercato, a meno che non siate sicuri, comunque la vogliate prendere in ogni caso, potete mettere anche un prezzo limite. L'ordine anche in questo caso è stato eseguito. Possiamo anche vedere come possiamo fare l'acquisto eventualmente magari di 100 azioni. Possiamo mettere anche altri dati. Qui abbiamo cliccato su qualcosa di errato, scusatemi. Insomma, possiamo variare la quantità, possiamo variare il prezzo. Sempre nel menu a tendina è possibile scegliere direttamente, senza digitare il prezzo, una fascia di prezzo consigliata. Andando indietro, eccolo qui, volendo possiamo scegliere anche, ovviamente, cliccando qui in avanti, prezzo di vendita. Ok? Semplicemente cliccando sulla azione. Tornando poi al nostro portafoglio. Dicevamo che chi ha delle azioni in portafoglio, può anche operare sulle opzioni. Ad esempio, io ho già 100 azioni Bayern in portafoglio. Stiamo parlando sempre di trading simulato. Clicchiamo su Bayern. Ci andiamo dentro. Ok? Vedete qui in alto anche la voce opzioni. Andiamo a cliccare quindi su opzioni. E su Bayern possiamo, ad esempio, vendere delle call. Cosa vuol dire vendere delle call? L'avevo già spiegato in un video. Allora, io ho 100 azioni Bayern. Oltre al dividendo che mi viene distribuito da Bayern, posso cercare di incrementare i miei guadagni. In che modo? Vendendo appunto delle opzioni call, ad esempio, io dico ho 100 azioni Bayern, mi impegno a venderle. Nel qual caso Bayern raggiunga, ad esempio, un prezzo di 52 euro. In questo caso, oltre a un guadagno in conto capitale, porterai a casa anche un premio. O meglio, il premio lo porta a casa in ogni modo. Poi, se Bayern supera i 52 euro per azioni, probabilmente verrà esercitata l'opzione call e quindi io mi dovrò disfare della mia azione Bayern a un prezzo di 52 euro. Anche se il prezzo dovesse raggiungere magari i 53 o i 54 euro. Se invece Bayern non raggiungesse i 52 euro, io il premio intanto me lo sono incassato. Ma mi rimangono anche le azioni in mano. Come fare per fare questa operazione? Andiamo nella colonna call e vediamo come ci sia a 52 euro la possibilità di vendere opzioni call. Quindi ci clicchiamo sopra. Eccola qui. Facciamo ordine. In basso a destra il tasto blu. E ovviamente bisogna venderle. Quindi andiamo a selezionare ordine di vendita. Anche in questo caso possiamo scegliere un prezzo limite che è sempre l'opzione consigliata per facilità di esempio. In questo video mettiamo il prezzo a mercato e alla fine sempre scorriamo la barra in fondo per finalizzare l'operazione. Scorri per la vendita. Sì. L'ordine viene eseguito. Facciamo visualizza. Eseguiti. Soldo. Quindi è stata venduta questa opzione call. In che modo? Allora. È stata venduta una opzione call che ricordiamo movimenta 100 azioni Bayern. Quindi quantità 1. Prezzo di 0,43. Per ogni azione, quindi dobbiamo moltiplicare per 100, la commissione di 1,10 euro l'importo realmente incassato da me per questa operazione è di 43 euro. Quindi mi tengo le mie azioni Bayern, mi piglio 43 euro di premio per aver venduto un'opzione call e sarà poi tassata al 26% in sede di dichiarazione dei redditi e vediamo poi se sarò assegnato o meno. Viceversa, mi chiederete sicuramente anche le opzioni put, come funzionano. Sapete che è un'operatività che ogni tanto faccio per integrare i miei piccoli incassi. In questo caso andiamo sempre sulla lente di ingrandimento che vediamo qui in alto. Clicchiamo, ad esempio, cerchiamo Intesa San Paolo Eccola qui Allora, azioni Clicchiamo su azioni, secondo me è molto più semplice e andiamo su opzioni anche in questo caso. Ci mettiamo, ad esempio, sul mese di dicembre Eccolo qui che carica, perfetto E in questo caso cosa possiamo dire? Allora, Intesa movimenta mille azioni per ogni opzione venduta. In questo caso io ipotizzo entro il 16 dicembre io sarei disposto ad acquistare mille azioni Intesa San Paolo nel qual caso il prezzo scendesse sotto i 2,20 euro per azione. Quindi vado a selezionare proprio la PUT con questo importo che vediamo qua Ci clicco sopra Ordine, sempre in basso a destra il tasto blu Ci mettiamo sempre sulla vendita Quindi in questo caso io dovrei avere sul conto di trading almeno 2.200 euro Ricordiamolo perché non opero a leva non opero con soldi che non ho E la quantità 1 sempre prezzo a mercato per far vedere comunque l'eseguito che passa In questo caso facciamo quindi Scorri con la vendita in basso Scorriamo Diamo la conferma dell'operazione Il cellulare ha vibrato Ve lo confermo io Ordine, eseguito Facciamo sempre Visualizza, eseguiti Andiamo a cliccare sul dettaglio dell'operazione In questo caso io mi impegno ad acquistare 1000 azioni Intesa San Paolo che equivale a un lotto quindi di opzioni a un prezzo di 2,2 entro il 16 dicembre chiaramente nel caso fossi assegnato In questo caso ho incassato un premio di 18 euro la commissione pagata sarebbe di 2 euro Sempre lo ricordo Parliamo di trading simulato Lo leggiamo qua Ok Allora io direi che Abbiamo parlato una decina di minuti Per oggi con questa simulazione di Interactive Brokers Abbiamo finito Spero che il video vi sia piaciuto Fatemelo sapere Nei commenti Mettete il like anche Così aiuterete a supportare il canale Però se avete altre domande E volete altre simulazioni Fatemelo sapere Scrivetemelo E cercherò di accontentarmi Nel limite del possibile Un saluto a tutti da Lorenzo A presto E ciao Grazie a tutti